In solito fatto quello che si sarebbe verificato in Canada, questo paese bellissimo che si trova ubicato sopra gli Stati Uniti d'America, dove è stato un cittadino di Kelowna, nella British Columbia, si sarebbe vestito da Batman e si sarebbe presentato sulla scena di un crimine andando ad offrire agli agenti il suo aiuto. L'uomo molto conosciuto nella comunità locale, pensate che si fa chiamare come Okanagan Batman, gira a bordo di una Batmobile in piena ebola, si tratta di un pick up nero modificato con il logo dell'uomo pipistrello, si esibisce in feste ma anche in eventi a tema. Questa volta però non aveva a che fare con dei bimbi ma con dei criminali in carne d'ossa. Infatti le pattuglie, dei carabinieri, dei poliziotti in azione con le pistole in pugno lo avrebbero allontanato e avrebbero spiegato di avere tutto sotto pieno controllo. Insomma, l'uomo si è permesso o meglio si è messo nella condizione di fornire un aiuto proprio ai poliziotti. Una scena piacevole, una scena che in qualche modo, in qualche maniera non può, diciamo così, passare inosservata perché ci fa rendere conto che ci sono persone come quest'uomo che hanno a cuore, diciamo così, la sicurezza degli esseri umani. E si permettono meglio, e fa bene farlo, di contribuire a fornire un aiuto ai poliziotti, a chi lavora nel bene della sicurezza del cittadino. Bene, complimenti dunque a quest'uomo, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e al prossimo video da narratore italiano.